Una grande notizia recente è che Ventotene è diventata la prima comunità energetica della Regione Lazio. Ne parliamo con Cristiana Venali che è responsabile dell'ufficio di scopo per i piccoli comuni e i contratti di fiume della Regione. Dottoressa, perché questa è una notizia importante per tutto il territorio e cosa rappresenta per un'isola come Ventotene? È una bellissima notizia per Ventotene, per tutto il Lazio, ma io direi anche per tutta Italia, perché partono concretamente le comunità energetiche. In questi ultimi tempi se ne è sentito molto parlare, si è teorizzato molto, si sono stanziati anche dei fondi nel PNRR su questo tema, ma poi concretamente non era partita. Quindi il fatto che si parta è sicuramente una notizia bellissima, il fatto che lo si faccia a Ventotene, che è la prima nel Lazio, ma è anche la prima isola nel Mediterraneo, quindi abbiamo anche quest'altro primato, e il fatto che lo si faccia a Ventotene è per me a maggior ragione ancora più importante, perché Ventotene è un'isola, ma è anche un piccolo comune. Io credo che i piccoli comuni siano in generale dei laboratori di sostenibilità, cioè dei luoghi dove noi possiamo attuare, applicare nuove politiche di sostenibilità. È assolutamente fondamentale partire da questi luoghi e Ventotene è un esempio concreto. Un esempio concreto che si può, tra l'altro, appunto trasportare e portare in tutti gli altri 253 piccoli comuni della regione Lazio, perché costituire una comunità energetica non è solamente un'opportunità, diciamo, di sviluppo sostenibile in termini ambientali, ma è un'opportunità di sviluppo sostenibile in tutti e tre i punti fondamentali della sostenibilità, che sono sostenibilità economica, ambientale e sociale. Le comunità energetiche si basano su energie rinnovabili, quindi non fonti fossili, e quindi per quanto riguarda l'ambiente e il punto di vista ambientale è questo l'elemento fondamentale, ma è evidente che consentono anche di avere un risparmio economico. Questo è fondamentale ancora di più in quei luoghi come i piccoli comuni, dove c'è necessità di portare i servizi, di rilanciare anche il lavoro, l'economia, di creare opportunità lavorative ed economiche. Nasce questa comunità energetica grazie a un progetto della Regione Lazio, un bando che si chiama Vitamina G, che è stato rivolto ai giovani, e questo è un altro elemento, diciamo, interessante e bello, giovani studenti che mettono le loro professionalità a disposizione per lo sviluppo, appunto, di un nuovo sviluppo, lo sviluppo sostenibile. Quindi questo è un altro elemento molto importante, ma è evidente che tutto questo, diciamo, va anche sostenuto, economicamente la Regione Lazio lo sta facendo attraverso, diciamo, dei fondi stanziati in bilancio, che sono stati stanziati inizialmente per la, diciamo, quando è stata approvata una legge che istituisce queste comunità energetiche nella Regione Lazio e sono stati ulteriormente rifinanziati, quindi attualmente noi abbiamo 2 milioni di euro a disposizione per le comunità energetiche nel Lazio. Questi soldi, diciamo, vanno ad implementare già le risorse nazionali. Il nostro obiettivo come Regione Lazio è quello anche proprio di aiutare a nascere queste comunità energetiche, quindi nella fase di progettazione e anche di acquisto di impianti necessari appunto alla costituzione della comunità energetica. Esiste un cronoprogramma per la comunità energetica di Ventotene e le chiedo se ci sono già altri piccoli comuni che hanno aderito al progetto. Allora, un cronoprogramma, loro sono già partiti, hanno sostanzialmente firmato l'atto costitutivo, proprio nella giornata di lancio, e quindi la comunità energetica vede coinvolto il comune di Ventotene, ma anche, diciamo, attività commerciale e commerciali cittadini. Il loro obiettivo adesso è quello di implementare la produzione di energie rinnovabili rispetto a quella che è già presente. Ad esempio ci sono le attività imprenditoriali, alberghi, ad esempio, che hanno aderito, che vogliono mettere dei pannelli fotovoltaici, e quindi, appunto, passare alla produzione di energie rinnovabili. E poi, diciamo, il passo importante che loro vogliono fare, ad esempio, è proprio quello di accumulare questa energia, quindi accumulare energia prodotta nei momenti in cui non può essere consumata subito. E questo è un altro, diciamo, elemento di vantaggio, anche punto di premialità, che, diciamo, stiamo considerando, stiamo valutando di mettere all'interno dei bandi che, speriamo presto, usciranno nella Regione Lazio una volta attuati i regolamenti. Il sindaco di Ventotene, diciamo, come sogno, ma che, diciamo, speriamo possa diventare anche realtà, ipotizzava quello di poter accumulare energia rinnovabile per poter far funzionare, alimentare anche i traghetti o gli aliscafi che, diciamo, dalla costa portano le persone a Ventotene o viceversa. Essendo la prima, si dovrà anche sperimentare, si dovrà, diciamo, come dire, costruire anche insieme una governance che poi funzioni, facendo anche delle prove e degli esperimenti. Però, insomma, ci siamo, sono pronti, sono partiti e quindi credo che questa sia la notizia più importante. La Regione Laziocelli sosterrà, non li abbandonerà evidentemente e imparerà insieme a loro come ottenere poi risultati migliori non solo a Ventotene, ma in tutto il resto della Regione. Ci sono altri piccoli comuni che ne hanno cominciato a chiamare, ma sia in provincia di Roma, ma anche, diciamo, in altre province, per esempio Antrotoco, ma anche Bicovaro, ha chiesto informazioni. Insomma, questo ha innescato, diciamo, anche così una richiesta e anche una partecipazione molto attiva e positiva dei piccoli comuni della Regione Lazio.